Un settore importante nell'economia di Chioggia sta vivendo una vera e propria tragedia. Si tratta dei vongolari, degli uomini che a bordo delle turbosoffianti da anni ormai lottano per riuscire a mantenere la risorsa produttiva. Virus, tempesta vaia, morie, sofferenza, poca crescita, le ciammele a gallina, le vongole di mare le hanno vissute tutte, riuscendo ad ottenere anche una deroga europea per poter essere pescate di misura inferiore di quanto previsto inizialmente in quanto più di tanto su queste coste non riescono a svilupparsi. Un settore che in silenzio rimbocandosi le mani che sta cercando soluzioni ma che al momento sta soffrendo. A breve la categoria andrà in regione per un incontro con l'assessore Corazzari, poi si vedrà. In passato situazioni simili hanno portato le turbosoffianti a manifestare pacificamente a Venezia dove si sono fermate anche più giorni, manifestazioni che non servono a migliorare le condizioni della risorsa ma che si spera servano a rintracciare fondi per permettere ai pescatori di attendere in tranquillità che la risorsa torni a ripopolare le nostre coste.